Musica Cari amici di Robeda Fedagri, oggi le nostre telecamere volano a Milano, esattamente al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, dove lo scorso weekend è tornato in scena Vivite, il Festival del Vino Cooperativo promosso per il secondo anno dall'Alleanza delle Cooperative Italiane e pensato per avvicinare al mondo del vino cooperativo operatori del settore, esperti e consumatori che quest'anno si sono confrontati sul tema della sostenibilità. Un festival di forte impatto, seppur ancora giovane, che è stato scelto anche per un'edizione extra dell'anteprima vendemmia 2018, l'incontro annuale promosso da Regione Piemonte e Vignaioli Piemontesi per presentare dati e valutazioni sull'ultima vendemmia e tracciare nel contempo una previsione sull'andamento dell'annata che, nuovamente, attribuisce al vino cooperativo quasi il 40% della produzione totale. Record di cantine cooperative da tutta Italia, ma anche di visitatori sin dal primo giorno, a conferma del ruolo economico di primo piano che la cooperazione svolge nel comparto vitivinicolo nazionale ed estero. Come ci ricorda nell'apertura del nostro speciale di oggi, il vice premier Luigi Di Maio, presente all'inaugurazione di Vivite con il collega Matteo Salvini e il ministro delle politiche agroalimentari Gianmarco Centinaio. E dopo di lui arriveranno le testimonianze di tanti dirigenti e cooperatori piemontesi, insieme all'assessore regionale Giorgio Ferrero. L'importanza dei valori cooperativi e del mondo cooperativo sta, prima di tutto, nella sua fedeltà al territorio e alle persone che ci lavorano. È una filiera che resta sul territorio, non delocalizza e produce eccellenze che poi sono ambasciatrici nel mondo. Il Made in Italy è prodotto da chi lo fa veramente e questa è la filiera che rispetta la tradizione del Made in Italy e il concetto stesso. Quindi essere qui è un dovere perché rappresenta questo mondo, il nostro paese, è quello che vogliamo diventi l'intero mondo produttivo. Abbiamo qui in questo bellissimo padiglione cooperative che raccontano oltre 100 anni di storia, abbiamo cooperative che portano tutta la tradizione di un territorio, abbiamo realtà che hanno messo insieme strutture per dare più valore al vino italiano. E credo che questo sia l'arma vincente di questa manifestazione che non sta a valorizzare il brand, ma sta a valorizzare la storia dei tanti viticoltori che danno valore a un prodotto che nell'agroalimentare, soprattutto nel settore del cibo, è quello che è più vissuto e visto nel mondo. È andata bene questa vendemmia, molto bene, abbiamo portato a casa delle uve veramente belle, sane, però quest'anno è stata veramente l'annata del viticoltore professionista. È tornato il viticoltore al centro della scena perché con un'annata, come ben tutti voi avete visto, con una primavera piovosa, difficile, fredda, con sbalzi di temperatura, che ha saputo lavorare bene in vigna, quindi gestire professionalmente le proprie vigneti, ha portato a casa dei prodotti veramente all'altezza di un'annata che poi si è dimostrata con un settembre caldo, avere la ciliegina sulla torta che farà sì che avremo dei vini per l'annata 2018 importanti. La produzione è aumentata rispetto all'anno scorso di circa un 20%, però dobbiamo considerare che l'anno scorso era scarsa di un 19%, pertanto siamo nella norma, siamo in un'annata normale, ci auspichiamo che le speculazioni commerciali non facciano sì che i prodotti, che i nostri vini scendano. È una tradizione presentare la vendemmia che anche quest'anno abbiamo voluto mantenere, e questo devo ringraziare la cooperazione che vuole anche celebrare questo evento non solo con parole, perché è chiaro, l'abbiamo già detto più volte, l'annata 2018 è un'annata che grazie all'andamento climatico dell'autunno è stata veramente di buon successo e di buona qualità. Abbiamo avuto momenti critici all'inizio della vendemmia e poi il tempo questa volta ci ha dato veramente una mano. Il tema è anche che qua poi potremmo assaggiare, quindi passare dalle parole ai fatti, già alcune produzioni che credo diano il senso di un'annata da cui ci aspettiamo grandi risultati. Seconda edizione di Vivite, possiamo dire che la partenza con Botto, abbiamo avuto una fantastica inaugurazione, la partecipazione delle cantine, quindi della cooperazione piemontese, si conferma assolutamente di alto livello e molto partecipata. Abbiamo, come già l'anno scorso, sette cantine cooperative che hanno partecipato. Proprio in questo momento c'è nella sala biancamano la presentazione dell'annata Piemonte, quindi dei dati dell'ultima vendemmia per quanto riguarda il Piemonte, con la partecipazione dell'assessore Ferrero e quindi abbiamo sicuramente in questa fantastica cornice milanese espresso al meglio le potenzialità e le qualità della cooperazione vitivinicola piemontese. Portiamo proprio nel nome Barbera dei Secastelli, quindi siamo la cooperativa che vinifica più Barbera d'Asti al mondo e lo dico sempre con un po' di orgoglio. L'annata è andata bene, molto meglio rispetto alle aspettative. L'inizio annata non erano state così ottimali, ma poi l'ultimo periodo, prima della vendemmia, ha migliorato molto. Noi abbiamo avuto una vendemmia da record, da record perché il quantitativo di uva che è stato ritirato supera i 70.000 quintali, di cui almeno quasi il 90% di Barbera, come ho detto. Quindi la Barbera d'Asti è il nostro vino di punta. Noi presentiamo qui, nella nostra cooperativa, qui abbiamo tre barbere, che sono la nostra Barbera base, che è la Ventiforti, che è anche un vino che celebra questi 20 anni di cooperazione assieme, in quanto, come sapete, la nostra cooperativa l'anno scorso ha celebrato una fusione di tre cooperative, e sono stati 20 anni, una Barbera che è la 50 anni, invece che la classica Barbera d'Asti, e il Nizza, che è il prodotto di punta del nostro territorio. È un evento che riunisce molte cooperative, non solo del Piemonte, ma le cooperative italiane. Noi di Cantillate Calvisiana ci tenavamo ad essere anche noi presenti, a rappresentare il Dogliani, che è poi alla fine il vino che più ci rappresenta. Un'annata molto buona, rispetto all'anno scorso, che era un'annata da concentrazione per via della siccità e la mancanza di acqua, questa è un'annata dell'eleganza, soprattutto, ed è equilibrio dei vini. Qua a Milano abbiamo portato alcune novità, principalmente i nostri vini biologici, perché è una fiera dedicata alla sostenibilità, noi stiamo lavorando molto sulla sostenibilità, perché crediamo, soprattutto, che è importante vendere i vini, ma in Italia abbiamo tantissimi vini, qua a Milano ce ne sono tantissimi, ma noi abbiamo anche uno straordinario territorio da proporre, e quindi crediamo sempre di più che le persone fruiscano nel vino di un'emozione, di una sensazione che si completa pieno, venendoci a trovare sul territorio, e facendo esperienze sul territorio, e quindi il preservare questo territorio patrimonio UNESCO è un compito di tutti noi. È stata una grandissima vendemmia, in quantità e in qualità, e poi si è ritornati ad avere la vendemmia nel periodo della vendemmia, non è diventata più una vendemmia estiva, insomma, è diventata una vendemmia autunnale, veramente una buona vendemmia, una vecchia buona vendemmia. L'iniziativa degli ultimi anni, posso ricordare, ricordo la nuova linea di vini di Arnaldo Rivera, la linea che ci sta premiando in giro per il mondo, perché ci sta premiando? Perché la qualità premia, la qualità uno ci scommette, non si dorme la notte, perché è la qualità contro sacrifici, però poi l'indomani o la settimana dopo la qualità premia. Se l'anno scorso abbiamo portato l'Asti Secco come assoluta novità, quest'anno portiamo un'altra assoluta novità che è l'Aqui Rose Brut, quindi la desinazione non dolce del vitigno Bracchetto, prodotto molto interessante, prodotto che avrà bisogno di essere appunto sponsorizzato, e quindi fatto conoscere al mondo dei consumatori, e cerchiamo di utilizzare e di sfruttare questa sede opportuna per poter appunto parlarne e presentarne. Vendemmia 2018, bellissima vendemmia, fortunatamente abbiamo avuto dei quantitativi migliori rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso è stata la vendemmia del secolo come scarsità, e quindi quest'anno siamo andati molto bene da questo punto di vista, qualitativamente altrettanto molto buona, eravamo un po' preoccupati all'inizio perché potevano esserci magari qualche problemino di sanità delle uve, però siamo stati molto fortunati con un mese di settembre eccezionale dal punto di vista meteorologico, che ci ha aiutato molto, quindi abbiamo, se il buongiorno si vede dal mattino, è un mattino raggiante per quanto riguarda la qualità dei vini. Oggi pomeriggio ci sarà la presentazione dei dati tecnici di produzione dell'annata 2018, che è stata un'annata sostanzialmente molto positiva su tutte le tipologie di produzione, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo. Dai dati tecnici che i nostri agronomi e i nostri tecnici di cantina hanno elaborato, si presenta un'annata molto, molto positiva, molto valida, quindi abbiamo anche fiducia in un grande riscontro da parte del pubblico per quanto riguarda l'andamento poi anche della parte commerciale di questi prodotti. Abbiamo portato l'asti secco, il bracchetto d'acqui, la barbera d'asti, il moscato d'asti e il gavi. Che rappresentano le nostre punte di diamante dell'azienda, della cooperativa. Portare in tavola i nostri vini rappresenta la qualità quotidiana, prezzi accessibilissimi, pur essendo una grande azienda, come dicevo, di 900 etari, non dimentichiamo l'approccio molto, molto easy per la tavola, dalla qualità quotidiana a tutti i giorni. A Milano abbiamo portato naturalmente le nostre barbere più importanti, i nostri biglietti da visita, vini vecchie, il Nizza, l'Insynthesis e una chicca, un metodo classico da barbera. Diciamo che il barbera è un vitigno molto versatile che parte dai vini quotidiani come la barbera Piemonte ai vini come il Nizza, che possono stare al tavolo con i più grandi vini rossi del mondo. Però per sottolineare proprio questa versatilità abbiamo provato anche a fare un metodo classico che ha funzionato, il cliente in piazza, quindi noi continuiamo e lo portiamo con il nostro biglietto da visita. Qua c'è un'identità di un territorio molto forte che è il Piemonte, perché noi in Piemonte rivendichiamo sempre molto il fatto che noi non vendiamo un prodotto, ma noi siamo ambasciatori di un territorio, un territorio che ha eccellenze, enogastronomico ovviamente, qua c'è l'espressione del vino, nelle sue declinazioni migliori, non siamo solo vino, siamo latte, siamo nocciole, siamo tutto, però noi siamo orgogliosi di presentare questo nostro territorio che dal punto di vista enologico è una delle eccellenze italiane. È bellissimo essere qui perché trovo che dobbiamo trasmettere un modo diverso di fare impresa e di fare economia. Un fare impresa e economia che parte dal territorio, che rende protagonista dello sviluppo del territorio le piccole aziende agricole, in questo caso vitivinicola. È un'iniziativa che dobbiamo promuovere e mantenere nel tempo. Per noi questa è la seconda edizione, è un'edizione comunque molto importante perché consente alle nostre cantine, al nostro movimento cooperativo del settore vitivinicolo a presentarsi e presentare le proprie eccellenze. La seconda partecipazione è perché la prima ha avuto un grande successo quindi siamo convinti che anche questo sia un momento di promozione del nostro prodotto. Il fatto che la maggior parte della cantina abbia riconfermato la presenza dell'anno scorso sta proprio a significare questo dato. Il vino è sempre stato il portavoce, l'ambasciatore dei nostri territori e il qui da noi è effettivamente l'insieme di tutti i prodotti che rappresentano la nostra cultura, non soltanto a livello di coltivazione e di produzione ma proprio anche a livello di conoscenza e di trasmissione di quelle che sono le buone prassi quelle che non dobbiamo dimenticare pur nell'innovazione che è assolutamente fondamentale. Significa dare possibilità di reddito a tante aziende frammentate che rischerebbero di essere fuori dallo scenario competitivo globale significa testimoniare i valori veri e autentici del nostro territorio la nostra passione, la nostra esperienza le tradizioni di un territorio che cambia da regione a regione siamo qui fra le cooperative e le cantine sociali piemontesi che esprimono certamente dei livelli di grandissima eccellenza le langhe e tutti i territori di assoluta eccellenza che tutto il mondo ormai conosce ma siamo insieme al Trentino, siamo insieme al Veneto, all'Emilia Romagna, alla Toscana a tutte le regioni d'Italia. Grazie